Sicuramente si poteva fare meglio quando si perde, però abbiamo giocato con una squadra che ha giocato bene, ha battuto e ricevuto meglio di noi. Secondo me lì c'è stata molta differenza, è stata fatta su queste situazioni di battuta e ricezione. Poi penso che stasera le due squadre hanno giocato una bella pallavolo, tante difese, non tantissimi errori, mi sembra, poi devo andare a vedere, però non tantissimi errori in attacco, è ovvio, è una sconfitta, diciamo un 3-2, continuiamo un po' questo trend di limitare i danni, è importante, stasera penso che sia molto importante perché è come se la squadra è partita 2-1, per come si era messa a perdere da 3, sarebbe voluto dire avere Novara subito lì addosso a noi, ricordiamoci che il nostro obiettivo principale all'inizio è quello di metterci lì nelle prime tre e vedere di fare il meglio possibile e manteniamo da Novara un vantaggio di più tre, che secondo me a questo punto della stagione, visto gli incontri che ci saranno, è ancora tutto aperto, però è ovvio, la palistiano è meglio essere a più tre che a più uno.